Domani intitolazione a San Giovanni di parte di Via Maestri del Lavoro in zona Luccheria ad Otello Gaggi, anarchico ed antifascista, tradito nei propri ideali poi nella Russia di Stalin e mandato dunque a morire in un gulag in Siberia. La cerimonia è in programma alle 16 con tanto di canti popolari affidati ad Alessio Lega. Carlo Gaggi che è un antifascista anarchico che nel 1945 è morto nei gulag sovietici e che credo abbia tutto il titolo per essere ricordato come uno che ha combattuto per la libertà è andato in Russia da comunista e è rimasto un po' tradito anche da quello che gli ha riservato la Russia. Il ricordo sarà curato da Giorgio Sacchetti, autore della biografia dello stesso Tello Gaggi. Tello Gaggi è uno di quelle centinaia di San Giovanni che nel 23-24 marzo 1921 ha partecipato all'insurrezione armata, la prima ribellione contro le squadre fasciste. Erano i denunciati, poi saranno un centinaio ma in realtà i partecipanti saranno molti di più. Ecco lui era uno di questi. Non solo, Otello Gaggi è uno dei 300.000 esiliati politici durante il fascismo. E' uno che decide di andare non in Francia, che è una meta laica dove in molti vanno, ma in Russia, perché la Russia è la patria della rivoluzione, perché è lì, come diceva prima il sindaco, è lì che sembra che si stia realizzando il sogno. Un sogno che purtroppo sarà infranto, perché questa è la questione della vita di Gaggi. Grazie.